Con la voglia di puntare in alto e crescere ancora, la Mediterraneo Sport è pronta per un'altra stagione in prima fila nel settore pallanuoto. Per il secondo anno consecutivo il team arancio-blu parteciperà al campionato di Serie C e sarà probabilmente l'unica squadra tarantina iscritta al torneo secondo gli elenchi delle iscritte fornite finora alla Federazione Italiana Nuoto. Confermato inoltre l'impegno nei campionati giovanili Under-17, Under-15 e Under-13. La grande novità della stagione è rappresentata dalla partenza della scuola pallanuoto per i più piccoli, coordinata dal tecnico Antonio Grasso. Fiore all'occhiello anche quest'anno, l'esperienza di coach Mauro Birri. Quest'anno cerchiamo di consolidare un po' il lavoro fatto l'altro anno, con la Serie C che, ripeto, è sempre una compagine formata da tutti i giovani. Questo è l'obiettivo principale, cercare di fare bene e ancora meglio della passata stagione in questo campionato, rinforzando la rosa ma sempre con atleti giovani. Questo è l'obiettivo principale, crescere e magari ottenere dei traguardi più importanti, però con una base di ragazzi che possono garantire una certa durata in questo club. Per quanto riguarda i settori giovanili, anche lì abbiamo avuto dei nuovi inserimenti di ragazzi di buon livello che vengono da altre società qui intorno e questo ha fatto sì che le varie formazioni si siano rinforzate nella speranza di ottenere anche dei risultati migliori di quelli già fatti. Il settore femminile invece, dopo il buon campionato disputato in Serie B lo scorso anno, cambierà filosofia e punterà esclusivamente sulla formazione di giovani giocatrici. L'inizio ufficiale della stagione è vicino, si ricomincerà con l'Under 13 che dovrebbe esordire il 30 ottobre nel girone di prequalificazione.